Empty your mind Il flick-flack che passa anch'esso per la verticale E molti altri elementi Un elemento molto importante in quanto bisogna avere un buon controllo del corpo Una buona tenuta degli arti superiori Un buono slancio e spinta degli arti inferiori E un buon controllo di tutti i gruppi muscolari principali La verticale è un rovesciamento di 180 gradi Con appoggio delle mani al suolo E raggiungimento della posizione ritta rovesciata In allineamento con tutto il corpo Si parte dalla stazione retta con un alto inferiore proteso avanti Gli arti superiori sono in alto e in linea con il resto del corpo Attraverso l'appoggio distanziato e il piegamento dell'arto inferiore avanti Il busto si abbassa mantenendo l'allineamento con gli arti superiori E con l'arto inferiore libero Per consentire alla gamba di effettuare un vero e proprio affondo In tal modo la posa delle mani al suolo sarà impresa a palmare a passo normale E avviene con una certa distanza per evitare la chiusura dell'angolo busto arti superiori Di conseguenza uno spostamento in avanti delle spalle Ma non troppo lontano in quanto non bisogna provocare una caduta degli arti superiori Appena le mani prendono contatto con il suolo Viene prodotta una spinta costante delle spalle verso l'alto Per ottenere il massimo allungo Gli arti inferiori effettuano un'azione coordinata di slancio-spinta Per raggiungere la posizione rovesciata L'arto avanti è sempre piegato mentre quello libero si slancia indietro Tale azione permette di levare il corpo alla verticale Gli arti inferiori si riuniscono quando l'arto di slancio ha raggiunto la posizione rovesciata E a questo punto tutti i segmenti sono in linea con il capo tra le braccia Per quanto riguarda lo studio e l'evoluzione della verticale Si inizia con la verticale di slancio Si prosegue con la verticale capovolta Con la verticale di impostazione Che si studia principalmente nella ginnastica artistica E con la verticale perno Perno di quanto? Di 180, di 360 e multipli Quindi sono la verticale e tutte le rotazioni sull'asse sagitale Dalla posizione della verticale Queste sono le evoluzioni Come prerequisito tecnico Bisognerebbe saper fare la verticale sui tre appoggi Che sarebbe la verticale sulla testa Quella che vedete nel tutorial qua sopra Se ci cliccate andate a vedere il tutorial della verticale sulla testa Diciamo che vi potrà dare una mano per quanto riguarda gli allenamenti L'impostazione, la spinta delle mani Che comunque vi potranno essere utili per lo studio di questa verticale Che è chiamata anche verticale su due appoggi Gli sviluppi e le evoluzioni che vi ho detto prima Sono quelle principalmente usate nella ginnastica artistica Vedremo nei prossimi tutorial Altri elementi per quanto riguarda lo sviluppo della verticale Come ad esempio la verticale ponte La capriola verticale La capriola verticale gambe liberate La verticale camminata La verticale tre balzi La verticale indietro Quindi tantissime altre verticali Che andranno a migliorare e completare Lo studio del rovesciamento di 180 gradi Per quanto riguarda la didattica Si possono fare degli esercizi generali Comunque a carico degli arti superiori Si lavorano le andature Quindi su quattro appoggi Su tre appoggi Quindi due mani e una gamba E su due appoggi Solo sulle mani Poi ovviamente per avviare Per abituare il corpo Comunque al rovesciamento di 180 gradi Ci sono degli esercizi propedeutici In ordine di difficoltà Per arrivare alla fine alla verticale completa In questo primo esercizio Non assumete ancora una posizione verticale Ma un atteggiamento squadrato Con le braccia tese Con le gambe tese La posizione squadrata è quasi di 90 gradi E' molto importante non inarcare la schiena Per tutta la durata dell'esercizio Le spalle sono sempre spinte Gli arti superiori sono tesi Appoggiamo bene i palmi delle mani a terra Con le dita aperte E manteniamo questa posizione Il più tempo possibile In questo secondo esercizio In questo secondo esercizio Portiamo più peso sugli arti superiori Mantenete sempre l'atteggiamento corporeo in linea Senza inarcare la schiena Utilizzate sempre un muro o una spalliera Questo terzo esercizio Serve per tenere un equilibrio maggiore Può essere eseguito sia singolarmente che a coppie Se viene eseguito a coppie Chi fa assistenza appoggia una mano sulla parte lombare della schiena E una mano sulle ginocchia Per quanto riguarda chi esegue questo esercizio Deve mantenere una muscolatura contratta E il peso delle spalle si riflette avanti alle mani Le punte dei piedi anche se sono raccolte Comunque guardano verso l'alto In quest'ultimo esercizio Proviamo a fare la verticale di slancio completa Assumiamo la posizione della verticale Mantenendo i muscoli il più contratti possibile E dopodiché ci lasciamo cadere su un materasso Mantenendo un atteggiamento corretto Questi erano gli esercizi in progressione didattica Per imparare a fare la verticale Vi ricordo sempre di mantenere una posizione rita La schiena non va mai inarcata Le spalle sono sempre spinta E lo sguardo è alle mani Lo sguardo degli occhi deve andare leggermente al centro E più avanti rispetto alle mani Di modo da formare un triangolo equilatero Come la posa della verticale sulla testa La schiena non si inarca mai E niente, spero che questo video vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo tutorial Ciao 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 Ciao